La poesia è la fede e la poesia è la religione? I racconti della Bibbia, i racconti più antichi, partono in questo modo, parlano anche lì di acqua, magari non c'è scritto, non c'è idrogeno, magari non c'è ossigeno, però partono da lì. L'inizio è sempre fatto di acqua, di acqua che si separa. E allora per introdurre queste nostre serate, queste nostre letture, abbiamo chiesto ad una serie di personaggi un po' anomali di venire a raccontarci la loro esperienza con le scritture. E il primo personaggio che abbiamo invitato è proprio uno scienziato, uno scienziato per commentare la genesi, uno scienziato che se ne intende di tempo e che se ne intende di origini. Tullio Regge. Grazie. 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 Si è portato anche la borsa, ho visto. Sì, ma c'è un libro. E soltanto per figura, no? Vabbè, adesso lo chiediamo. Vabbè, comunque, come vuole. Professore, la domanda da cui vorrei partire, e poi lei ci racconterà, è questa. Ma per uno scienziato, per un uomo come lei, che ha lavorato tutta la vita, proprio come fisico, i racconti della Bibbia, i racconti delle origini, la genesi in particolare, perché stasera parliamo di quello, sono soltanto delle belle favole antiche, oppure possono essere anche qualche cosa altro? Ma, inzitutto, io ero prevenuto nei riguardi della Bibbia, perché è sempre stata presentata come antiscientifica. Tanto per dire, non so, Santigliana, la Bibbia è il libro meno scientifico che io abbia mai visto. Effettivamente, se uno cerca lì dentro scienza moderna, o anche vagamente, non diciamo moderna, ma scienza del tempo, anche di secoli fa, non ci trova molto. Quello che viene dopo la genesi, e dal punto di vista umano, è estremamente interessante. Grazie a tutti.